Chiude con dati confortanti e migliori del previsto questa centunesima edizione di Pitti Immagine Uomo, la seconda in presenza dall'inizio dell'emergenza sanitaria. 4.500 circa i visitatori che hanno potuto apprezzare le collezioni per l'autunno-inverno 2022-2023 degli oltre 550 marchi esposti alla fortezza da basso. Un'edizione in cui si è dovuto rinunciare dai grandi eventi mondani, le sfilate più glamour e le feste in città, ma che ha potuto così concentrarsi sul rilancio del settore. Assolutamente positivo, oggettivamente positivo. È quello che ci dicono gli espositori e ci dicono i compratori. Questo è stato un appuntamento giusto, nel momento adatto dove, faccio un po' una metafora, nei grandi momenti di difficoltà bisogna fare il quadrato, un po' come facciano i romani con la testugine quando erano un po' in difficoltà. Unirsi e affrontare una fase difficile. I espositori e i compratori hanno trovato grande offerta, gran buone collezioni, grande ricerca e soprattutto la fiducia che è stata trasmessa rispetto a quello che sarà poi il mercato che riprenderà sicuramente. E da qualche parte bisogna partire. Pitti Magine Uomo e Pitti Magine Bimbo sono stati questo appuntamento. Si stima che i numeri definitivi della manifestazione si aggireranno intorno ai 4.500 buyers per l'uomo e circa 1.500 per Pitti Bimbo, accorpato nella kermesse principale. Numeri sostanzialmente in linea o superiori rispetto all'edizione precedente, la prima in presenza dall'inizio della pandemia. Nel dettaglio i compratori italiani rappresentano due terzi del totale, tra quelli esteri, tra i primi dieci paesi di provenienza dei buyers, ci sono Olanda, Francia e Germania. Qualche coraggioso però è arrivato anche da Cina, Giappone, Corea del Sud e Hong Kong.